Le altre pecore, chi sono? Su questo canale è presente già un video o qualche video che accennano all'identificazione di queste altre pecore di cui parla Gesù nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni al versetto 16. Perché è importante capire l'identità di queste cosiddette altre pecore? Perché ci sono delle organizzazioni religiose di origine dispensazionalista, come lo sono ad esempio i testimoni di Geova, che su questa dicitura altre pecore ci hanno costruito una dottrina completamente campata in aria, ossia la distinzione di due classi salvati, i cosiddetti unti o 144.000 che hanno la speranza celeste e le altre pecore o grande folla che ha la speranza terrena. Ora, la Bibbia ci insegna che non ci sono più di due classi di persone, ci sono i salvati e ci sono i perduti. Ai salvati spetta il regno di Dio, ai perduti spettano le fiamme eterne dell'inferno. Non ci sono tre, quattro o più classi di persone, non ci sono i salvati, i perduti, a sua volta i salvati che si soddividono in due gruppi o due categorie, come ad esempio insegna la torre di guardia. Infatti Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, il versetto 16 dice, ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Ma esaminando il contesto del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, Gesù a chi stava parlando? stava parlando ai giudei. Stava parlando ai giudei e presenti nella folla c'erano anche dei farisei. Quindi Gesù per altre pecore che non erano di quello vile e che anche quelle avrebbe dovuto condurre e raccogliere, intendeva una classe di persone che non facevano parte dell'ovile di Israele, dell'ovile dell'Israele terreno, dell'Israele naturale. E quindi si stava riferendo a chi? Ai cosiddetti gentili, ai non ebrei che dopo la sua morte e risurrezione con il nuovo patto, con la nuova alleanza, avrebbero fatto parte delle cosiddette altre pecore che avrebbero formato un solo gregge sotto un solo pastore insieme agli ebrei salvati. Gesù non stava parlando di un'altra classe di salvati, non stava riferendosi alla grande folla che si doveva distinguere dai 144.000. E per avere conferma di questo, siccome, come dice il Salmo 119, è la somma della parola di Dio che fa la verità, che è verità, c'è una scrittura, un passo scritturale, ci sono dei versetti della lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, al capitolo 2, che ci chiarificano meglio l'identità di queste altre pecore. Se noi infatti leggiamo Efesini capitolo 2, i versetti da 11 a 22 sono una manciata di versetti che voglio leggervi, ci chiarificano l'identità delle altre pecore di cui stava parlando Gesù e che non è una doppia classe di salvati. Infatti è scritto, l'Apostolo Paolo si sta rivolgendo agli Efesini che, rispetto agli ebrei, erano stranieri, quindi erano gentili. Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza, senza Dio nel mondo. Ma ora, e ricordiamo che questa lettera è stata scritta tra il 60 e il 62 dopo Cristo, quindi una trentina d'anni dopo circa la morte, la risurrezione e l'ascensione del Signore Gesù. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo. Ecco le parole di Gesù. Ho altre pecore che non sono di questo vile, anche quelle devo raccogliere e saranno un solo gregge sotto un solo pastore. dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge è fatta di comandamenti, in forma di precetti, per creare in sé stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace. Ecco chi sono le altre pecore. Sono i salvati, non giudei, non ebrei nella carne. E per riconciliarli tutti e due, ebrei salvati e gentili salvati, con Dio in un corpo unico, mediante la croce sulla quale fece morire l'inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. C'è solo un gruppo di salvati, non c'è una doppia destinazione celeste e terrena. Un solo spirito, un solo corpo, un solo uomo nuovo, dice qui Paolo, scrive Paolo. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un Tempio Santo nel Signore. In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Ecco chi sono le altre pecore. Sono tutti i gentili, cioè i non ebrei, salvati anche loro, che rientrano nel nuovo patto e a cui spetta il regno dei cieli. Quindi non c'è alcuna, quindi la dottrina della doppia classe di salvati, quella celeste e quella terrena, non trova alcun fondamento biblico. È una dottrina che trae le sue origini da una corrente, neanche tutto, ma da una corrente del dispensazionalismo evangelico di fine ottocento. La Bibbia, come ripeto e poi chiudo il video, parla di salvati e perduti. Non parla di una doppia classe di salvati. Esiste il regno dei cieli, il cielo, il far parte del regno dei cieli, l'ereditare il regno di Dio, le promesse. Essere coeredi delle promesse di Cristo per i salvati e l'inferno, le fiamme eterne, per coloro che non si ravvedono, per i perduti. Basta. Benissimo, vi ringrazio per l'attenzione, Dio vi benedica e, se Dio vuole, al prossimo video.